Voi lo sapete che è iniziato super sfide, vero? Che cos'è? In sostanza metto a confronto due racchette che ho provato, le valuto secondo alcune caratteristiche precise, decreto il vincitore secondo la mia esperienza perché fare la recensione sicuramente è una buona cosa e spero aiuti voi tutti a scegliere la racchetta giusta per voi, con un po' ovviamente più di consapevolezza. Ma in realtà è importante anche fare dei confronti, vedere quale pala spinge di più, quale ha più controllo eccetera. Per questo vi lascio qui nelle schede la playlist di tutte le super sfide fatte finora e anche ovviamente di quelle che arriveranno se guardate il video più tardi ecco. Come sapete se seguite il canale e a tal proposito vi invito a fare un bel subscribe se ancora non l'aveste fatto perché so che tanti di voi guardano i video ma non sono ancora iscritti e per me è importante. Ovviamente attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati. Ho avuto la fortuna di provare gran parte del set di pale di Tactical Paddle. Il brand mi è piaciuto molto e devo dire che anche tra il pubblico ha riscontrato un ottimo successo per la qualità dei propri prodotti e anche alcuni lati caratteristici. Oggi ne mettiamo a confronto due e devo dire che è una super sfida che mi avete chiesto diverse volte tra qui e Instagram dove mi invito anche lì a seguirmi molto importante per aggiornamenti giornaliere sul pad. Oggi quindi mettiamo a confronto la Tactical Paddle e il Toro 1.0 con la Tactical Paddle e il Toro 2.0. Andiamo a vedere quale è meglio dove e ovviamente quale sarà la SM Choice. Quindi alziamo il sipario e andiamo a vedere quale delle due è la migliore. Le categorie di sfida sono sempre le stesse. Potenza, controllo, maneggevolezza, uscita di palla e punto dolce. Oltre a localizzare le varie palle per vedere se sono più adatte al giocatore di destra o di sinistra. E allora che la sfida abbia ufficialmente inizio e vinca il migliore. Potenza, il Toro 2.0. Possiamo dire che il tatto è più secco e riscontrabile già dopo i primi colpi. La palla rimane meno sul piatto e restituisce un bel suono che fa assaporare da subito la potenza che si può imprimere. Senza essere necessariamente un super petardo che vi farà per forza fare i buchi per terra, la El Toro 2 si aggiudica al primo punto della sfida. Controllo, El Toro 1.0. Difficilmente una palla vince lo scontro sia in potenza che in controllo con la diretta avversaria. Capita, ma non è così usuale. La El Toro 1.0 è molto più adatta ai colpi di controllo e lavorati, restituendo un feeling più confortevole e magari un pochino più adatto a chi vuole giocare di misura e di tatto. Per questo è una vittoria della prima versione. Maneggevolezza. Da questo punto di vista le vedo abbastanza simili. Non ho avvertito un netto vincitore in questa categoria perché sia il range di peso che il bilanciamento sono molto simili. Poi ovviamente può variare da modello a modello che vi arriva a casa, non c'è dubbio. Però non vedendo una netta supremazia dell'uno e dell'altra darei un exequo in quanto a maneggevolezza. Uscita di palla. El Toro 1.0. Sicuramente un po' più elastica e con un'uscita di palla migliore rispetto alla 2.0. È avvertibile in maniera netta da subito e, sebbene sia più benevola della sorella più recente, non è esagerata con il timore che la palla scapi quando si imprime potenza. È un buon compromesso tra un'uscita di palla discreta e anche una discreta collaborazione nei colpi difficili, ma senza una spinta troppo esagerata che ti faccia tentennare sul fatto di sfuggire la pallina oppure no. Anche qui vittoria della 1.0. Punto dolce. El Toro 1.0. Sicuramente la El Toro 1.0 è una racchetta un pochino più friendly, più facile da muovere anche se non easy. E anche quindi più permissiva concedendo qualcosa di più anche magari sui impatti non necessariamente perfetti. La 2.0 è un pochino più severa e, devo dire, anche un po' più tosta da gestire, con un punto dolce leggermente più piccolo. Segni particolari? Parliamo per entrambe di una qualità costruttiva veramente al top. Sono racchette del brand svedese ma che sono interamente costruite in Spagna. Questo unisce le qualità dei materiali a quella di produzione e non hai dubbi quando prendi in mano una Tactical sulla sua solidità e qualità, visto che, come avete visto dal canale, qualche Tactical l'ho provata. Devo dire che la qualità diffusa di tutti i modelli mi ha davvero impressionato. Sebbene sia magari un marchio meno mainstream, ancora per poco forse, è uno dei brand migliori a 360 gradi sul mercato. Un altro segno particolare pazzesco, e ve l'ho detto nelle recensioni singole, è il grip dei manici, che sono lavorati in modo da darti una solidità e un tatto pazzesco senza risultare appiccicosi o noiosi. Per questo sì, il miglior grip va sicuramente a Tactical Power. Destro-sinistra? Se l'ha il Toro 2.0 insindacabilmente per il giocatore di sinistra, che vuole spingere e sa come farlo, la il Toro 1.0 rimane secondo me un po' più adatta per il giocatore di sinistra, però nel caso vogliate usarla a destra non sarà un handicap. Magari non sarà la più comoda delle palle, quello sì, ma di sicuro più trattabile rispetto alla 2.0, che secondo me ha solo un posto in campo ed è sul rovescio. Andiamo a vedere un rapido riassunto delle sfide caratteristica per caratteristica e poi decreteremo il vincitore. La mia scelta alla fine ricade sulla Tactical Power del Toro 1.0. Devo dire la verità, le ho provate al contrario, quindi prima la 2.0 e poi la 1.0, che ho avuto la possibilità di testare purtroppo tardi. La 2.0 mi aveva a tratti entusiasmato perché, devo dirlo, avevo un grande hype per il brand e quando sono riuscito ad avere qualche pala da testare, e ringrazio tantissimo Tactical Paddle per la collaborazione, sono rimasto subito stupito positivamente. Poi però ho provato la 1.0 e non pensavo potesse vincere così nettamente rispetto a una palla che già ritenevo di altissima qualità. E invece la 1.0 è davvero qualcosa di super e mi ha lasciato un feeling per il mio gioco che ho trovato in poche altre racchette. Per me è una delle migliori in assoluto provate e sebbene la 2.0 sia notevole, vado convinto ad acquistare la 1.0 se dovessi spendere dei soldi miei. Come detto ho avuto modo di provare qualche Tactical Paddle e nel canale trovate la recensione della 2.0 completa della El Jefe e presto arriverà anche la El Rey. Ho testato la 1.0 come vi dicevo, quindi sono molto felice di avere una cultura abbastanza diffusa su questo brand che continuo a valutare come uno dei migliori in assoluto sul mercato. È vero che i prezzi sono altini e non c'è una grande possibilità di andare street price e risparmiare moltissimo. Quindi se volete con il codice SIMONE, se acquistate dal sito ufficiale Tactical Paddle e c'è anche il sito Tactical Paddle Italia, ve lo ricordo, vi regaleranno un overgrip che, considerata la qualità di cui vi ho parlato, non è affatto da tralasciare come regalo. In sostanza parliamo di due pale davvero da top di gamma, con un chiaro vincitore, ma dove lo sconfitto potrebbe tranquillamente vincere tante delle sfide che farebbe con i top brand altrui. Se vi siete persi qualcosa qui trovate l'extended review, ma sul profilo Instagram che potete seguire ovviamente trovate unboxing, prime impressioni, recensioni in un reel, oltre al passaportino con i voti. Quindi ogni racchetta che passa qui sul canale, tra YouTube e Instagram, ha tutto quello che vi serve. Ora ditemi la vostra, preferite la 1.0 o la 2.0? Quale consigliereste all'amico che ha budget da spendere? Fatemelo sapere come sempre qui nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo e vi aspetto sempre qui per un prossimo video su SME Padre. A presto.